Non arriveranno, salvo sorprese dell'ultima ora, altre proroghe per l'obbligo di indossare le mascherine nelle strutture sanitarie che scade oggi. Insomma, allentamenti notevoli, perché molti sostengono che ormai il covid va trattato come influenza. Fatto sta che non tutti sono d'accordo per quel che riguarda gli allentamenti nelle strutture sanitarie. Ma io ho un approccio più prudente, nel senso che dobbiamo vedere quello che succede. Come dicevo, in questo momento, tutto sommato, la pressione sugli ospedali non è altissima. C'è però ancora una notevole circolazione del virus, c'è ancora tanta gente che muore, per cui lascerei la discrezione delle persone e la possibilità di indossare la mascherina. Negli ospedali sarei un po' più cauto, anche perché devo dire che il grande vantaggio delle mascherine è che in questi anni hanno abbattuto anche la trasmissione di altre infezioni, come ad esempio l'influenza. Quindi dal mio punto di vista mi sembra un'ottima idea ancora aspettare qualche mese e magari vedere come andrà l'invernata. Intanto per l'ospedale oggi è una giornata importante. L'assessore regionale della sanità Nicoletta Verin visita il nosocomio, visita che arriva dopo una settimana caratterizzata da una certa amaretta, tra alcuni primari e il manager Ferdinando Romano. Primari che attraverso una lettera avevano parlato di tantissime problematiche, di un ospedale che per loro sta perdendo a pillo e cadendo a pezzi e dove mancano tante cose, anche quelle di base, fatto respinto al mittente dallo stesso manager Arrasla. Grazie. Grazie.